Se avete dei clienti appunto che vengono per lutto, per elaborare il lutto, avete l'ipnosi come una risorsa molto potente per poterli aiutare, perché l'ipnosi lavora appunto con la trans e la persona che sta passando un momento di lutto ha dei sintomi molto simili a quelli che noi abbiamo nella trans. Per questo che si dice in tedesco quando una persona è in lutto che ha dei sintomi di Trauer Trans, che vuol dire sintomi da trans da lutto, nel senso che questi sintomi sono simili a quelli che uno ha nella trans quando viene a fare l'istituto di ipnosi.